Mi manca l'ultimo boss del DLC Ho vinto No GG Io sono matto 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 Dali Gary Ah è questa mappa Perché dovrebbe essere Ah sì perché mi ha bettato contro Certo che ha perso Pensavo fosse una mappa in particolare Invece no Semplicemente questa Il basement sta la parte opposta della mappa Fist bad Matto Matto da legare Oh ho visto qualcuno Sprint Fuck Ok Lo pensavo di qua perché potrebbe finire sulla trappola Ah l'ha schivata davvero Grazie Furfi Grazie mille dei beat Chuf chuf No se riusciamo Perfetto Uh no bravo Se non è un certo punto Basement time It's basement time boy Basement 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 time It's a basement boy It's a basement boy It's a basement 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 Potevo andare per lui però Non ero sicuro Oh Chi è? Qualcuno ha fatto la sub Grazie mille a chiunque abbia fatto la sub V'è andato sto stronzo Spendo lo stronzo Peccato Ah è andato qua dietro A quello qui Guarda proprio Perfetto Può fare il save Va bene Non posso farci molto Però posso andarci intanto con lui L'unica cosa che posso effettivamente fare Peccato che Starstruck Si è disattivato adesso E non ho trappole Per favore amore Segnati per Adesso Tutti i beat che fa Con l'ultimo di Purpante Grazie Grazie Wizzinga Dalla donazione Appendili tutti Grazie mille Wizzinga Come cazzo ha fatto a fare il save già? Merda Aspettiamo per sicurezza Perfetto It's time to Basement trap Basement trap Sarà ancora giù l'altro Vero? Un giorno di sì Le donazioni non funzionano Sfortunatamente su live train Ragazzi Comunque ve lo dico Allora sono 10 euro di donazioni E 100 bit Quindi sono 33 minuti Non riesco a trovare la terza trappola Per il basement Ma è Si è lasciato morire Quella Ancora Ancora Grazie Furfi Oh È finita la sua trappola Cosa farvi dopo di Ma merda Davvero? Non lo so ancora Germi No no È finita sull'altra Aspetta Aspetta Never fucking lucky Hai perso il treno Hai perso il treno Non è niente Il treno è andato Mi spiace 200 bit Non riscatti la build Sì è brutale Ma Bisogna L'ho detto Più che altro Bisogna scriverla Anche Perché Se succede Che partano Tipo 700 bit Velocemente è difficile Scalus Grazie dei tre abbonamenti regalati Mi spiace per il treno è partito Ma grazie mille Degli abbonamenti regalati Povera Megli Si è simpatica Ciao Ape Da quante ore di gioco hai? 1300 Lo sta facendo Vabbè GG Tra l'altro Ape è appena arrivato E ha preso subito la sub Neanche a farlo apposta Grazie mille Ragazzi Mandate dei cuoricini Per favore in chat A scaurus Vabbè Anche per chi dona Ovviamente i bit Però Mandate i cuoricini In chat in generale Ragazzi Per favore Grazie mille Ragazzi Con quegli abbonamenti Allora abbiamo Un 10 E un 6 Giusto? Si Per 200 bit Quindi 36 Siamo a 6 ore e 30 No niente Ragazzi Non scenderemo Dalle 3 ore Dalle 6 ore Cioè Rimarremo a 6 ore fissi? Lo scopriremo Nella prossima puntata GG comunque Poverini questi Sono finiti nel basement Non hanno più avuto nulla da fare Allora abbiamo No Che Grazie.